Ciao, oggi voglio parlarti di una cosa particolare che mi è successa personalmente. Se mi segui da un po' mi avrai già sentito parlare tante volte di segnali. Ebbene, oggi ho cambiato casa qui in Andalusia, sono in un nuovo appartamento che ho scoperto che si chiama Sant'Angelo. Diciamo che non lo sapevo prima ed è stato molto molto particolare come cosa perché comunque, cosa vi devo dire, è stato uno dei primi segnali che ho incontrato oggi. Uscendo di casa, per la strada ho trovato un Angel Cocktail Bar e come ultima cosa ho trovato un Diamond Resort che tra l'altro è il resort dove ho abitato nel mio periodo lo scorso anno quando sono stata in Arizona. Non so che cosa mi vogliono dire questi segnali ma sicuramente sono segnali belli e positivi. Lasciati condurre dei segnali, apri gli occhi, le orecchie, i tuoi sensi per poterli cogliere. Perché quando arrivano dei segnali così ti vogliono sicuramente dire qualcosa di buono e comunque i segnali sono sempre utili perché in qualche modo sono sempre positivi perché che ti dicano che stai facendo la cosa corretta e giusta oppure che tu non la stia facendo sono sempre utili perché seguendoli potrai eventualmente cambiare strada e andare verso il tuo percorso migliore. Un abbraccio forte e a presto!